Il deragliamento di un treno a Philadelphia ha causato almeno 5 morti e tra i 50 e i 70 feriti, secondo quanto riferiscono fonti locali. 8 delle 10 carrozze di un convoglio della Amtrak in viaggio da Washington a New York sono uscite dai binari. Le fonti fanno sapere che il treno stava entrando in una curva. Secondo una testimonianza, viaggiava poco sopra i 100 km orari quando è avvenuto l'incidente. Alcuni dei vagoni si sono rovesciati, dei passeggeri e delle altre persone si sono arrampicate su di essi per tentare di soccorrere i feriti.